buon sabato a tutti belli e brutti un bacione da michelone un bacione un bacione a tutti i belli e brutti ve l'ho detto che questo qui non lo tiro via fin quando non fin quando non mi faranno ricredere vedremo vedremo domani se faranno se faranno una una partita da juventus un partita d'orgoglio una partita da juventus di una volta allora non glielo mostrerò più se no questo qua comincia a diventare un punto fermo giusto ragazzi giusto così è giusto così addirittura ho sentito ieri uno youtuber che parlava che che fuori del j medical c'è stata una sorta di riunione lì fra tutti quanti per riuscire a capire fuori dal j medical pensate voi stranamente lì non avete credo lì sono tutti i mezzi fuori i mezzi dentro allora invece di fare riunione dentro un ufficio o dentro una sale l'hanno fatto al j medica sono per certi credo sono tutti la porca puttana insomma ha fatto questa specie di riunione per riuscire a capire che cosa è successo con lo stoccar da perché si saranno si sarà fatto anche qualche domanda anche la dirigenza anche giuntoli c'è vedere una juve così io ve lo ripeto ancora una volta non è per il fatto che hai perso perché puoi perdere la partita storta e tutto quello che vuoi marco hai capito quello che voglio dire una preta ma in quella maniera lì è una maniera veramente disarmante c'è a una juventus non può capitare una partita così si puoi perdere magari quegli altri sono stati più forti c'è la giornata storta non ti vanno non ti va dentro la palla e gli altri giocano meglio lo capisco ma non una roba del genere una roba del genere è preoccupante e vi ripeto che le avvisaglie si vedevano già i giorni prima già le partite prima si vedevano le avvisaglie quindi non io non sono tranquillo per quello che ho visto non è per la partita persa perché la partita persa tanto questa partita non è che mi interessava neanche più di tanto è come ve l'abbiamo persa che mi interessa è questo il fatto adesso vediamo se questi tireranno fuori l'orgoglio e le palle se tireranno fuori le palle perché io voglio vedere una juventus io vorrei vedere una juventus che assomiglia almeno un po alla juventus di lippi che aveva quella quella garra quella vedere un una parvenza di neve lì davanti una parvenza di davis lì a centrocampo una non lo so io voglio vedere una 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 juventus che è un po di di gara di quella anche difensiva di trapattoni di attacco di quella di lippi e di 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 gruppo come quella di conte e poi principalmente i primi due anni anche come quella di allegri primi due anni poi quando ha messo a mano lui non ci ha capito un cazzo no già lo sappiamo questo qua dai no comunque non torniamo su allegri perché sennò comincia di nuovo il no comincia di nuovo lo stomaco insomma è questa adesso adesso ci sarà questa partita romani sono preoccupatissimo perché sono preoccupatissimo anche per le via delle assenze per via delle assenze bevo ragazze a proposito buona colazione a tutti mi raccomando fatti bravi mi raccomando buona colazione a tutti belli e brutti buon pranzo tanto questo video lo beccherete dopo 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 pranzato oggi ho una giornata di lavoro l'ultima della stanza l'ultima dell'anno vado dagli una mano oggi vediamo perché non sono tanto in forma non sono tanto in forma ho qualche problema ho qualche problema ma ma diciamo che ho qualche problemino ecco così allora speriamo che vada tutto bene oggi è buon è buon ragazzi e insomma sono preoccupato a loro gli mancano due 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 bo ma loro c'è loro sono rodati parte che sono la squadra più forte è inutile dirlo sulla squadra più forte anche se gli mancano due giocatori riescono tranquillamente a sopperire posto di acerbi mettono devrai a posto di di cialano luciano frattesi lio zelinski quindi non non è che a noi a noi purtroppo quella assenza di premer si ai gatti e calulo va bene ok di la la hanno dato la formazione che dovrebbe essere di gregorio cabal cambiaso gatti e calulo questa dovrebbe essere la difesa poi al centrocampo centrocampo bene o male è obbligatorio perché ce n'è ce n'hai ce n'hai ce n'hai 4 4 quindi dicono che non dovrebbero incominciare fagioli ma dovrebbero incominciare locatelli play mckenny e turam e poi ovviamente c'è questo fagioli e questo il diz e questo azic azic in panchina e poi c'hai lì davanti di cui tre con sensato il diz e vlaovic addirittura ho sentito che il diz non dovrebbe neanche incominciare da 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 titolare dovrebbe incominciare azic dietro le punte o fagioli dietro le punte insomma forse hanno incominciato a capire o sennò addirittura sentito il diz dietro le punte con sensato avete avete capito che hanno incominciato a ragionare un po ve l'avevo detto io cambia modulo metti il rombo e di fatto incominciano adesso anche tutti quanti a dire il diz dietro le punte dietro le punte così secondo me è una squadra che può tener botta quattro centrocampisti non 34 centrocampisti e due punte e qui qui tre centrocampisti devi sopperire ai loro tre centrocampisti ovviamente cacchio e tre centrocampisti devono sopperire ai loro centrocampisti poi ovviamente cabal che è un gran secondo me un gran giocatore è cambiaso si beccano gli esterni i due lì da i due lì gatti e cabal si prendono le punte e poi lì davanti e coso lì consensato e vlauvic sveglia e sveglia sveglia quindi il materiale anche c'è perché il materiale c'è poi si parla che dovrebbe partire magari anche ue a al posto di consensato insomma vedremo vedremo io partirei in un'altra maniera partire con quattro lì fissi quattro migliori cabal ripeto cambiaso gatti e calulu di gregorio in porta o per in una di due non c'è nessun problema poi ovviamente metterei metterei giocherei con fagioli non locatelli fagioli davanti la difesa e meccenni turam e azic azic addirittura dietro le punte metterei vlauvic da una parte e consensato il dis lotterà in panchina perché non lo vedo in forma io giocarei così perché azic attenzione ad aziche perché azic e consensato per me sono i due jolly di questa squadra poi ovviamente ci sono poi può entrare il diz può entrare uea può entrare savona c'è c'è ce ne abbiamo poi cambi per fare non è che proprio è che quello che mi rompe le balle che mi manca copp myers bremer ormai ce ne dobbiamo fare una ragione il fatto principale è che manca copp myers quello lì è tanti che parlavano di copp myers manca lui e manca lui si sente manca lui si quello quello è proprio il giocatore che deve giocare dietro le punte il giocatore perfetto purtroppo purtroppo fa ancora male le costole noi siamo purtroppo sfigati con gli infortuni sono anni 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 che siamo sfigati cerchiamo di portare casa la pelle almeno di cercare di non perdere perché sicuramente il napoli vincerà con il lecce lo strapazzerà un pari non serve a niente a nessuno è per rimanere agganciata al napoli però dalla prossima partita incominciano le partite toste per il napoli e c'è l'infrasettimanale la juventus dopo in casa col parma e poi mi pare che c'è milan napoli o napoli milan no a proposito la porcata ieri fatta al milan una roba schifosa che porcata fatta al milan far saltare la partita così i due giocatori di reinders e teo hernandez invece di saltare la partita di bologna perché sono squalificati saltano la partita con il napoli no proprio proprio le studiano tutte le studiano tutte perché ormai ormai ti viene da pensare così con questo calcio qua siccome questo calcio è un calcio di merda un calcio ormai corrotto ti viene di pensare ti viene da pensarle tutte no io continuo a dire che faranno in maniera che se la giochino inter e napoli sono sicuro il cento per cento ci mandano poi tutti sono incazzati perché ci mandano guida che una po che è un arbitro napoletano che manda arbitrare una partita e inter juve questo qui ne viene fatta la juventus di più del porco vedremo 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 io non dico niente dell'arbitro io dico quello che dicono gli altri vedremo se ci farà ancora che ce n'ha fatta di porcheria è questo arbitro qua vedremo cosa succederà già non sono tranquillo per le assenze dico più che altro per le assenze e ovviamente per il calo lì e la partita la partita perché o avranno un tracolpo positivo o ci sarà l'affossamento è questa partita viene proprio giusta per vedere se questi giocatori hanno le palle hanno le palle perché alla juventus deve avere le palle per giocare alla juvent per giocare la juventus devi avere le palle poi capitolo punta e cosa lì parla molto di di questo jonathan david che sta fa gli sta facendo ha detto molte domande sulla juventus vedremo questo jonathan david e lille ci sono un paio di punta in cui sta monitorando sta monitorando il nostro giuntoli perché ha capito anche lui che non si può rimanere con con una punta con una punta e per fare il gioco di tiago motta devi avere dei mostri a centrocampo e l'unica punta davanti deve essere un bomber vero se no se no te la giochi da quarto il bologna è arrivato quarto quarto quinto se no te la giochi da quarto per fare il il gioco il no il gioco il modulo che vuole fare tiago motta noi abbiamo buoni giocatori ma non ottimi giocatori o se no devi mettere un centrocampo a 4 ti giochi con due punta lui la difesa 3 non la mette allora ti giochi vuoi rimanere con la difesa 4 devi avere due punte e devi giocare con il centrocampo a 4 per quello io dico di mettere il rombo il rombo l'unica maniera per giocare tranquilla con questa squadra qua rombo a centrocampo ce n'hai quattro di centrocampisti è più bilanciata la squadra è più bilanciata la squadra è più coperta la difesa e secondo me arrivano più palle lì davanti secondo me è secondo me e poi c'è questo non ripeto questo lucca della dell'udinese insomma vedremo insomma si parla di una di queste due punte che che sono molto 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 vicino alla juventus vedremo cosa farà il nostro giunto lì a gennaio e poi di questo questo difensore perché dietro siamo corti avete visto danilo 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 non può fare il centrale non può farlo il centrale danilo è un esterno e devi metterlo esterno poi darà quello che darà se non riuscirà a tenere tutta la partita magari gli farei fare un tempo ma danilo deve giocare esterno non più centrale basta chiuso il discorso se non ne ha più via non puoi giocare in una squadra quando non hai garra via il tempo passa per tutti bisogna farsene una ragione ultima cosa azzeramento del corpo dirigenziale per i prescritti cioè prescritti ragazzi ne sento di tutti i colori dico da voglia del vostro del vostro della vostra dirigenza sentito che anche quel antonelli lì come cacchio si chiama la che un amministratore delegato sommico che cacchio è no della della dell'amministratore delegato lì del bon insomma questo antonelli se la mocca va alla roma stranamente va alla roma bevo ragazzi perché roma napoli è tutto un collegamento è ragazzi è tutto un collegamento è ragazzi attenzione voi non so se certe cose le avete capite ma io sì io sì c'è quel legame sotto quel legame fino no sotto tra giudici giudici e ads e porcherie varie giocatori scambiati robe c'è sempre quello quel filo sotto che collega quelle tre società lì no quindi questo qua se ne scappa via ovviamente perché quando succede qualcosa incominciano a mandare via adesso ho sentito che questo ok 3 incazzato nero perché dicono che dell'inter non gliene frega niente vuole vendere l'inter però questi problemi qua danno una brutta immagine adesso per 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 sopperire a tutte queste a queste problematiche adesso manderà via tutti vedremo chi è il prossimo a levare le tende e penso stavolta cari interini che non dico che sono proprio cazzi amari amari però sono cazzetti amari e qua gente che scappa via tipo consob covi gioco così no e quando mandano via i dirigenti così su in su due piedi avete visto anche da noi no io sapete come la penso io ho sempre detto che non ho mai detto che la mia dirigenza dei santi perché qualcosa quelli li ha con hanno combinato di fatti al canghià detronizzati tutti però ripeto sempre non come la fanno vedere loro qualcosina qualcosina il primo avete visto paratici e la stessa cosa stanno facendo loro il primo è stato marotta per dire la verità per quello che ha combinato la juventus perché altro che caso ronaldo li paratici è stato ma dopo velo dopo le cose vengono fuori è stato mandato via agnelli doveva mandarlo via perché ne aveva combinate quelle che con quelle che sta combinando adesso l'inter adesso vedremo cosa 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 succederà ai prescritti da secondo me io penso che se la caveranno con una grossa multa perché qua quelli la non fanno mai un cazzo se la caveranno con una grossa 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 multa non penso punti di penalizzazione almeno che non gli diano l'articolo 4 se gli danno l'articolo 4 è grave allora lì è grave però non glielo daranno sicuro io credo che se la caveranno come quella volta dei passaporti con una lì c'è stata una multina perché un passaportino cosa volete che siano ma qui la roba è grossa anche perché qui queste banche che davano soldi all'andrangheta di quello che dicono c'è c'è sta octri lì io non credo che questa octri non sapeva dove andavano quei soldi lì soldi dei 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 contribuenti e che tu gli vai dare l'andrangheta io non penso che la che la che octri non sappia queste cose qua comunque adesso sicuramente lei farà piazza pulita di tutti di tutti e tutti i dirigenti di di tutti quelli che lavorano la metterà lì i suoi vedere vedremo anche marotta che fine farà perché secondo me marotta il perno di tutto marotta marotta i trocchetti prove trocchetti dell'infelicità lì poi rocchi e tutto tutto quando quando vi dico una cosa poi chiudo ve l'ho sempre detto e poi non ditemi che non vi ho detto dietro a quelli la c'è roba grossa ve l'ho sempre detto e adesso stanno venendo fuori tutte dietro a quelli lì c'è roba grossa non è una puttanata quattro stupidate c'è roba grossa veramente roba grossa grossa per smontare lì ragazzi ci vogliono veramente giudici con i contro coglioni e giudici seri dico seri per non dire altro giudici veramente seri vedremo come andrà a finire anche questa storia qua vedremo io sono curioso di vedere come li salveranno questo sono curioso di vedere ragazzi ciao a tutti belli e brutti tanto per questa roba che ci pensa già il gigio ci pensa già il sergio a sbattare io sono uno uno più superficiale sulla sulla questione non vado prendere gli articoli gli articoletti tanto questo è il grosso il succo è questo qua poi ovviamente vi aggiorno anch'io che segue michelone che gli piace seguire michelone vi aggiorno anch'io su queste cose qua non dettagliatamente come loro però ricordatevi il 27 la maglietta estrazione della maglietta il 27 ok bacione a tutti belli e brutti ci vediamo la prossima like campanellina iscrivetevi al canale mi raccomando campanellina nera e ci vediamo la prossima e fatti bravi ciao raga